Arrestato per corruzione un funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Venezia. Il dirigente, di 55 anni, si trova ai domiciliari nella sua casa di mestre. E' accusato di aver percepito diverse busterelle da un commercialista 63enne di Chioggia per consentirgli di far pagare meno imposte ai suoi clienti in fase di dichiarazione dei redditi, in particolare a un imprenditore del settore ittico, sempre di Chioggia. Busterelle di 8.000 euro per avvisarlo che di lì a breve sarebbe stato soggetto di controlli da parte della finanza e di altri 5.000 euro per ridurre sanzioni a vario titolo, oltre a cene e pranzi pagati sempre in cambio di favori. Nei confronti del 55enne sembra anche essere in corso il provvedimento di licenziamento da parte della stessa Agenzia delle Entrate. Sono tuttora in corso perquisizioni nell'abitazione e nell'ufficio del funzionario. L'indagine diretta dalla Procura di Venezia costituisce la prosecuzione dell'inchiesta del giugno dell'anno scorso, quando nel 2017 sono stati imputati per corruzione diversi imprenditori commercialisti e pubblici ufficiali.